Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada sulla 1, code in uscita a Firenze Sud, provenendo da Bologna, per traffico intenso. Verso Roma troviamo inoltre rallentamenti per interventi urgenti del ripristino della pavimentazione tra Barberino e Calenzano. Prudenza inoltre per nebbia banchi tra Roncobilaccio e Aglio. Infipili rallentamenti per lavori tra Montelupo e Ginestra in direzione Firenze. Per il traffico urbano di Firenze informiamo che è stata riaperta via Tavanti, in precedenza chiusa, per un autobus ATAF in avaria. Nel trasporto pubblico locale per senso unico di circolazione a Castelfiorentino, sul ponte e sul fiume Elza, deviazioni ad alcune linee autobus. Ulteriori aggiornamenti sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio. Grazie a tutti.